Ciao ragazze, no, devi dire ciao ragazzi, eccoci qua con un nuovo video, cariore, che bello, finalmente ce l'abbiamo fatta a fare questo video insieme, volevo troppo fare un video degli snack assaggi con Dario, perché io e Dario siamo due mangioni, non assaggiamo mai, noi mangiamo forte, e quindi ci tenevo tantissimo, finalmente ce l'abbiamo fatta perché noi siamo sempre impegnatissimi con il nostro shop, soprattutto adesso che abbiamo aperto il nostro shop online, Carita Shop, veniteci a trovare, fate tanti acquisti, piccolo messaggio in emozione, cioccolatini e i messaggi d'amore, Dario mette i cioccolatini nel pacco, io metto messaggi d'amore, e poi invece se volete sapere cosa ho utilizzato per questo trucco, per il mio look in generale, anche vestiti eccetera, guardate il vlog che ho caricato prima di questo video, che sulla maglia che indosso, guardate il vlog, adesso possiamo iniziare un bel gusto, ma amore, il mio non vede l'ora di mangiare, è una cosa tremenda, allora praticamente, ragazzi qua c'è il bel bustone che ho comprato da Tiger, amore sai come funziona, adesso mi spiego, ragazzi, ragazzi mettete un like a questo video, se vi piacciono i video assaggi con Dario, così caso ormai ne facciamo pure altri, così assaggiamo pure insieme, esatto, faccio vogliere un aglio, amore togli questo cappello, amore toglilo, ma no, ma non è natalissimo, è quello tipo buonatario, buonatario è tornato, evviva, allora ecco adesso si, assaggiare tutte queste cose, e dobbiamo dare un voto, ok, e non ti puoi rifiutare di assaggiare tutto, se volete altri video con Dario, assaggi, in particolare con Dario, lasciate tanti pollici, io dico la verità, solo la verità, niente altro che la verità, vabbè, dolce salato, dolce, allora, allora, questi qua c'è scritto, sono dei belgia tartufle, avrò io, dai, apri tu, ah beh, apri, amore, assaggia, mmm, dalla foto sono molto invitanti, sono dei taccini, ah, che duri, mamma mia, ah, ma non sono, oh, che bellini, tutto di cioccolata, un morso, non ho neanche detto, c'è un morso che Dario, mmm, dentro è tutto cioccolato, mmm, buono, mmm, eh, ragazzi, è un blocco di cioccolato, buonissimo, però ho già due, ti sciogliono in bocca, penso di non aver assaggiato una cosa così, cioccolato, cebola, amore, non ne mangiare tutti, li voglio dare qualcuno a mia sorella, secondo me ne piaceranno tantissimo, dai, dai, è una scioglievolezza, mmm, voto? 10, io 9, perché mi riservo 10 per qualcosa, però sono veramente top, ragazzi, amore, abbiamo accappato subito una cosa buona, ci abbiamo un culo, ci emendo, questo salato, queste sono le patatine, però la cosa bella è che non sono patatine semplici, sono patatine gusto panna acida, guappa, sei contento? Ah, bene, vai, l'odore è buono, insomma, ragazzi, assaggio bravo, a me sembra più cipolla che fa una madò raga ma sono piena di grasso vi giuro amore visto come sono tutte insegose sono tutte piene d'olio è buona e c'è anche la buccia le ho dire la verità queste patatine di tiger sono il male io ho fatto anche tanti video assaggi con nensi non abbiamo mai provato queste qua però si sempre di tiger andatevi a vedere le hanno fatte altre patatine però queste qua sono particolari ma la cosa bella è che le patatine di tiger sono il male puoi più volere una patatina è buona è buona però farei delle patatine adesso mancite non fai che gusto le patatine gusto pollo pollo allo spiego tiger fai delle patatine gusto pollo allo spiego fai pollo allo spiego gusto bacon ragazzi rimate pure il tagli danno a me lo stavo buono raga ecco io questo me lo sto mandato pure tutte sono doppie basta basta io le facciamo tutte dopo ci che segnalo se le portiamo a prezzo se le portiamo a prezzo andiamo a te che me lo spodete amo è troppo bene voto sette sette si sette e continuo a mangiare io voto otto solo perché sono panacea ve lo dire sono un po' acida e mangiandole mangiandole non è cioè sono buone perché sono croccante però il gusto è fastidioso vediamo gli occhi e vediamo che prendiamo vai lasciamo adesso vai che cos'è fallo vedere che sono i questi sono i mashmallow papo natalini che carini apriamoli sono buoni lo sai a me non piacciono tanto perché non sono proprio invece sono buoni un po' più duvi un po' più buoni un po' più buoni ciao babbo natalini mi dispiace devo mangiare voto cinque ok ti convinco no veramente sei perché comunque sono buoni però alla fine è una caramella amo solo il zucchero mh questo è bello, questo praticamente è la barretta sesamo e noccioline questa è tutta mia, tutta via, vai grazie, questa è mia, guarda sembra torrone, amore devi fare la barretta a mano poi è proteica, come è proteica è buona, è qualcosa di sublime si rompono i denti, state attenti, ci sono sia le noccioline che il sesamo, quella è la cosa particolare, non le avevo mai viste così 6 e mezzo, no io 8, questa è una droga non mezzo è mezzo, voglio dire il pesce del tartuco bosa dai se li laviamo i gnocchi la banana, la banana, la banana, la banana, l'unica faccia dell'amore, è la banana del mio cuore io già l'ho provato, sono croccanti, però sono strane, non piacciono a tutti ma buona figurati a Daro se mi piace qualcosa ragazzi, la vera questione di questo video sarà, troveremo qualcosa che a Daro non piacerà questo è la prima volta del cinque al meglio di la vita queste banane le trovo troppo dolci mi piace la croccantezza, però troppo dolce la banana è già dolce, poi c'è stato proprio zucchero troppo, mamma mia è una banana zucchero troppo dolce vuoto? 5 7 non mi piace la banana? si tadaaa no si, lo devi vedere mi piace tanto il salato no no hai detto calato amore, questi che sono? questo è la porca piccante, vado amore, queste sono buone mmm poi sono piccante, a Daro questo non mi piace amore, mi sta rendendo mal di pancia mi piace la cacca no non mi piace non devo piccare, no? mi piace? quando fai un poca di pancia, sono troppo piccante amore un piccante, eh? no non mi piace no, questi sono molto piccanti, ragazzi voto 3 7 tu vedi? no, non mi piace la funzione per Dario di mangiare tutte cose piccante che lui odia piccante adesso lo vado io amore, io devo pescare non ho poco ma ce l'ho preso ho preso una cosa buona, credo cosa sono questi? sono dei chocolate toffee tipo cioccolatillo devo essere si, infatti è a caramello ah ragazzi guardate qua buoni mmm uno a te, uno a me e una piccola orecca una caramella una caramella caramella buona ma non è rispettata buona non credo che è buona buona cosa mi sembra il mas sembra il mas il colino vuoto oh questo buono allora questi sono tipo dei salati dolci dei salatini di copetti di cioccolato apro io che li mangiare io ma tutto lui uffa devo mangiare io stuporca si, te le do due ma perché è questo? sono due azzeccati in realtà viene così cioè avete presente quei salatini che stanno pure alle feste però di copetti di cioccolata ora li ho mai visti? ma no, è buona non si ma no, mi sono buona questo è il domani che ho fatto la taglia non sapete cosa mi sembra? mi cadono mi cadono guarda questi sono buoni scusa 8 pure gli 8 sono buoni veramente mmm buono solo perché il dolce salato a me a me le cose troppo dolci non piacciono mi piace il dolce salato come questo buono il dolce salato è come dolce la città è basta ah mamma capite che è buone qua c'è anche buone è venuta a buone perché ha sentito dovete mangiare mangiare un po' di più mmm buono andiamo avanti speriamo qualcosa di salato di tarallini c'è proprio scritto tarallini però a cioccolato no però la cosa strana è che sono tarallini di coperti di cioccolato cioè proprio tarallini di pupugliesi di coperti di cioccolato io non l'avevo mai visti prima questa vuol dire i papi tu non me la riesci a vedere ahahahahah bravo mmm bello non sono di coperti è saluto più picchini è tipo un tarallino ma la cosa più picchini ragazzi questo è il tarallino di cacao ovviamente non è di coperti è proprio il tarallino senza il tarallino grigliese però dentro all'impasto c'è anche il cacao quindi è nero ma non sa di cacao no ma neanche di tarallino non sa mai niente ma che saluto? niente no punto uno si ho già dovuto vedere cioè secondo me dovevano invece di tarare mettere aroma, pizza, formaggio li facevano salato è più buono si ma vediamo ci sono ancora tante cose taratà questi allora questo è buonissimo questo è troppo curioso di provarli perché sono praticamente dei dei traff tipo 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 tartufo tipo tartufo però a pallina ricoperto di noccioline no vabbè vabbè la busta dorata su questa è già la busta dorata cioè è buonissimo perché la busta dorata è buonissima è buonissima è buonissima vediamo è copiata sta buonissima c'è qualcosa dentro? ti immagino c'è madre sono palle di cioccolata ricoperte di noccioline oh vabbè è tutto ricoperto raga è buonissima sembra di preferire roche esternamente è buonissima è buonissima buonissima una cosa troppo chiccosa tadaaa questi li volevo troppo roche questi sono i biscotti tipo di oreo cioè pezzotti di oreo fatti da tiger ci chiamo ca 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 paga il bagno apriamoli vediamo come sono praticamente sembra proprio proprio l'oreo perché fuori sono al cacao e adesso c'è la cremina bianca proviamoli vediamo se Dario mai le aprirà stiamo qui stiamo qui non vero mamma vogliamo i biscotti vogliamo i biscotti vogliamo i biscotti vogliamo i biscotti mmm esternamente sembra proprio l'oreo è uguale si è anche come il sapore ci somiglia molto è troppo semplice con le manacopertura ricercolata voto? 2 3 2 4 questi sono buoni questi li devi troppo provare sono fagola e lampone proviamoli sono quelli che frizzano in bocca devi mangiarlo tutto è una polverina che frizza senti come è finta è troppo sfiggioso ma senti questi tu? mi devi tornare a bambini questi sono belli vuoi la fracola del stimone? questo è tutto ragazzi noi siamo feliciti sono tutto Dario di amato adesso mangio quelle patatine le patatine sicuro ce le prendiamo sono buonissime è buone speriamo che questo video vi sia piaciuto vi mandiamo un grosso bacio vi diamo appuntamento al prossimo video fateci sapere se volete altri video con Dario mi raccomando commenti e like e buon Natale a tutti buon Natale ciao ciao ciao